In considerazione anche della grande attenzione che ha manifestato la popolazione di Firenze venendo qui al monte a controllare anche visivamente i danni sia alla Basilica sia al Palazzo dei Vescovi, soprattutto alle vetrate, noi ci siamo permessi, non è nostro uso come Benedettini, amiamo piuttosto lavorare e vivere del nostro lavoro, ma in questo caso trattandosi poi di spese straordinarie per un bene che è proprietà dello Stato e che è comunque patrimonio dell'umanità, volendo cercare di ottenere il più presto possibile una situazione di messa in sicurezza e anche per tutta la Basilica e il Palazzo dei Vescovi chiediamo un aiuto di tutta la popolazione per questi restauri.